piedino per bottone applicare bottoni a quattro fori questo piedino è davvero grandioso per applicare bottoni a quattro fori per inserire il piedino far scorrere la barra sulla parte posteriore del supporto del piedino ed abbassarlo per assicurarlo alla macchina alcune macchine hanno la funzione cuci bottone che vi permetterà di abbassare automaticamente le griffe potrete comunque utilizzare anche lo zig zag facendo attenzione ad abbassare manualmente le griffe posizionare il bottone sotto il piedino in modo che l'ago cucina nei due buchi posteriori del bottone quando l'ago scende assicuratevi che entri nel centro del buco di sinistra per fare ciò vi basterà utilizzare la manopola manuale per abbassare l'ago avrete così fissato la parte posteriore del bottone ora alzare l'ago e spostare il bottone in avanti e servitevi di nuovo della manopola per regolare la posizione del lago e cucire la macchina legherà il filo automaticamente una volta terminato tagliate il filo ed ecco che avrete applicato il bottone